Da qualche giorno di tempo Marco Pannella, leader dei radicali, sarebbe a casa per colpa di una malattia, di una malattia che appunto sarebbe per avanzare e per colpa probabilmente anche di un forte affaticamento. Il politico italiano che starebbe lottando, pensate contro ben due tumori, da come si legge nel web, starebbe, sto usando il condizionale, uno al fegato e uno ai polmoni, ieri avrebbe saltato per la prima volta da anni il tradizionale intervento della domenica a radio radicale. La spostatezza gli avrebbe impedito di onorare il suo impegno in radio. Oggi però, 7 marzo 2015, da come si legge su internet, sarebbe arrivata una visita nella sua abitazione da parte di compagni radicali come lui, ma anche di Taluni Anci. Ringrazio voi tutti per l'ascolto, cari utenti, il video termina qua. Iscrivetevi, commentate e ringrazio voi tutti per l'ascolto.